Professoressa, il tema, la parola dell'edizione di quest'anno dei dialoghi di Trani è la cura, con quale accezione e che significato? La cura è una cura che parte dalla cura della persona, ma riguarda la cura dell'ambiente, della collettività. Qui siamo in un bellissimo comune, quello di Orsara, che deve essere oggetto di cura. Come Trani tutti i luoghi hanno bisogno di cura, perché la cura, avere cura, è una parola che è diversa da curare. Curare è quando ormai si è danneggiato ed è più difficile, mentre la cura precede il curare. Perciò noi abbiamo usato questa parola, perché ci sono tante ferite che noi procuriamo all'ambiente, agli altri. E invece se avessimo cura, anche i gesti di gentilezza, di attenzione, sono parte della cura. La cura poi si contrappone all'incuria, l'incuria che vediamo ogni giorno. Ecco, se prendessimo a cuore, ci dedicassimo con cura alle cose che ci circondano, penso che la vita sarebbe migliore per noi e per quelli che ci seguiranno. Professore, il libro si intitola Il lavoro del lettore, ce lo presenta? Di cosa si tratta? Si tratta di una riflessione sul fatto che leggere non è soltanto un piacere, un divertimento, un modo per intrattenersi, ma in qualche modo un lavoro. Questo perché il lettore è un mestiere. Fare il lettore si impara, si impara con la fatica di chi fa un lavoro, praticamente come se fosse un falegname che impara a usare gli arnesi del mestiere. E quando uno impara a fare quel mestiere, che è quello del lettore, ecco che improvvisamente tutto cambia, perché non è più soltanto usare il libro così per intrattenersi, ma per entrarci dentro, capire che cosa veramente ci vuol dire, ci dà la spinta a approfondire la lettura fino al punto di trarne tutti i vantaggi che la lettura può offrire. E questo è quello che ho cercato di spiegare, che la lettura apre delle visioni nuove, permette di guardare lì dove abitualmente non guardiamo, ci fa conoscere cose che altrimenti non conosceremo mai. Trani e Orsara, una collaborazione che inizia quest'anno, i dialoghi di Trani però vanno avanti già da diverso tempo. Ecco, in cosa consistono e quanto sono importanti per queste realtà? I dialoghi di Trani esistono da 22 anni, questa è la 22esima edizione. Per noi, per la città di Trani rappresentano senz'altro un fiore all'occhiello nella programmazione turistico-culturale della città, si svolgono sempre a settembre e dai dialoghi sono passati tanti autori, tanti personaggi che hanno lasciato il segno e hanno dato un contributo a questo territorio. E quindi oggi scoprire questa collaborazione con il comune di Orsara sicuramente rappresenta per noi un motivo di ulteriore orgoglio perché è la tangibile dimostrazione che la collaborazione non è circoscritta al territorio del comune di Trani o alla provincia Bat, ma sicuramente va oltre questi confini e quindi questa collaborazione che io spero possa diventare stabile nel tempo sicuramente arricchirà il programma e il panorama dei dialoghi di Trani che come ogni anno si preannuncia anche quest'anno con una programmazione sicuramente di livello e di spessore. La ventiduesima iniziativa, la ventiduesima edizione dei dialoghi di Trani, ecco come si crea questo ponte, questa sinergia, questa collaborazione tra il comune di Trani e quello di Orsara? Sicuramente diciamo da una conoscenza, un'amicizia con la professoressa Perrone Capano che insegna all'Università di Foggia e che io conosco per questioni lavorative. Parlando con lei abbiamo convenuto che forse era una bella cosa condividere questo momento culturale importante per tutto il territorio, non solo regionale ma anche diciamo nazionale e di fare un'iniziativa che in qualche maniera diciamo coinvolgesse i due comuni. Siamo partiti a questo, poi abbiamo fatto un protocollo d'intesa, abbiamo condiviso altre le fasi organizzative e ora siamo qui per cominciare questa sera. Dunque è solo l'inizio di un percorso più ampio? Sicuramente è l'inizio di un discorso che andrà avanti poi negli anni, così ci auguriamo.